Beni per oltre 15 milioni di euro e 5 avvisi di garanzia notificati a dei presunti prestanome della Cosca Condello. Fra le imprese sequestrate nel corso dell'operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza di Reggio Calabria, ci sono 4 imprese, un immobile, numerosi conti correnti e una catena di punti vendita di ottica. Il procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone. Si tratta di attività commerciali ben note in città che secondo noi sono state cedute fittiziamente e proprio perché questo imprenditore aveva comunque una serie di rapporti con il clan Condello, rapporti che devono essere ancora oggetto di indagini e di investigazione. Pignatone ha spiegato che a dare il via alle indagini sono state le dichiarazioni del boss pentito Antonino Logiudice. La successiva inchiesta ha accertato che le società e gli esercizi commerciali si sono avvalsi nel tempo dell'interesse delle cosche regine per assicurarsi immediati incrementi delle vendite che hanno fruttato grandi profitti.